Il primo segnale di inversione di tendenza che il Governo vuole dare nel campo della cultura. Commenta così il Premier Letta l'ok dato dal Consiglio di Ministri al decreto sulla valorizzazione e rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. La cultura è il cuore del nostro Paese e la possibilità di investire sulla cultura e di creare posti di lavoro, di creare competitività e produttività in questo campo, di attrarre investimenti, di attrarre turisti, è sicuramente una delle grandi priorità del nostro Paese e del nostro Governo. Il decreto contiene anche un intervento di salvataggio delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituito in fondo di 75 milioni che servirà a risanare le situazioni debitorie, ma per accedervi le fondazioni dovranno presentare entro 90 giorni un piano industriale di risanamento e ridurre fino al 50% il personale tecnico-amministrativo. Un intero capitolo del decreto è dedicato al sito archeologico di Pompei, dove è previsto l'arrivo di un direttore generale con ampi poteri. Una novità che potrebbe almeno in parte sopperire alla cronica carenza di fondi è quella che prevede la restituzione ai musei degli introiti diretti dei biglietti a partire dal 2014. Abbiamo bisogno di sapere che cosa possediamo. Porteremo avanti questo progetto ambizioso di catalogazione e di inventario del nostro patrimonio, progetto che prevede l'impegno di 500 laureati che saranno selezionati e che potranno fare un primo tirocinio di 12 mesi. Infine, per fronteggiare la crisi del mercato musicale e promuovere i giovani artisti, e ne arriva un tax credit pari a 5 milioni di euro sulla musica.